Spesso si crede che pozzi molto antichi possano nascondere delle vie di fuga sotterranee. Oggi dobbiamo esplorare uno di questi. Dove? A Saluzzo, in provincia di Cuneo. Ci troviamo proprio di fronte alla Castiglia, la residenza preferita dei Marchesi di Saluzzo, uno splendido edificio che risale alla seconda metà del XIII secolo. Al centro della strada, che si chiama proprio Salita al Castello, si trova questo pozzo che è stato scoperto casualmente nel 2001 durante lavori di rifacimento del manto stradale. Da allora si è sempre ipotizzato che potesse nascondere un passaggio segreto, forse proprio a motivo della sua vicinanza con la fortificazione. Giunti sul posto, disponiamo alcune transenne per mettere in sicurezza il sito e rimuoviamo la pesante grata in metallo che l'occlude. I ragazzi della SORS preparano le attrezzature tecnologiche come il ROV subacqueo che probabilmente useremo per la parte allagata del pozzo. La squadra di sicurezza predispone un tripode per la discesa, mentre si definisce come procedere e come affrontare eventuali imprevisti. Qui siamo tutti molto curiosi, per cui è inutile aspettare ultime verifiche e giù, si scende. Il mio compito è quello di verificare la sicurezza della discesa, bonificare la canna e valutare la qualità dell'aria. Mentre scendo provo ad iscrivervi ciò che vedo. Qui i laterizi sono posizionati di testa e affogati in abbondante malta. Certamente la vera è stata ridotta per la cessata esigenza di attingere acqua dall'acquifero sottostante e per garantire sicuramente più stabilità alla strada che anche carrozzabile. Intanto appare evidente che questo tratto di canna sia ben recente. È largo poco meno di un metro e mezzo, ma è chiaro che più sotto il pozzo si allarga. La sommità attuale è la risultante di un voltino in laterizio impostato sulla canna originale. Guardate che bello! Io l'ho sempre detto che i pozzi sono più affascinanti visti da dentro. Il voltino è rinforzato da un arco che l'attraversa diametralmente, sul quale se ne imposta un secondo più piccolo, grande la metà, che scarica contro il primo. Nella metà rimanente si apre l'attuale canna dalla quale siamo scesi, logicamente decentrata rispetto all'asse primitivo. La nuova cupola, così creata, si appoggia su un altro strato di laterizi, certamente preesistente. In questo secondo tratto, vedete come cambia bene lo strato? Bene, qui abbiamo due ordini di sei buche pontaie l'uno, realizzate a distanza regolare. Si potrebbe tentare la termoluminescenza di alcuni campioni di mattoni, anche perché, ora come ora, non riesco a raccogliere un numero significativo di misure per poterli incrociare con i dati delle tabelle mensiocronologiche della zona. Siamo scesi di poco più di 4 metri, ed il rivestimento in laterizi termina. Adesso qui la cavità si mostra scavata nella roccia, senza strutture successive di rinforzo. E questo da un lato è positivo perché ci permette di leggere meglio eventuali segni. In questo segmento, chiaramente irregolare, un occhio attento può notare in diversi tratti i segni lasciati dagli attrezzi di scavo di chi ha realizzato il manufatto nella parte centrale. Si tratta di segni molto fini, paralleli ed equamente distanziati, il che denota una certa cura con la quale l'asporto di roccia sia stato eseguito e rifinito. Solchi in parte coperti da colate di calcite. Sarebbe tuttavia possibile effettuare dei calchi con del materiale siliconico per poter ricavare almeno la forma della punta degli attrezzi immanicati impiegati per la sua rifinitura. Decidiamo quindi di impiegare il rovo subacqueo per avere delle riprese della parte sommersa. Tramite uno schermo esterno è possibile osservare in tempo reale ciò che il rovo riprende. È interessante come si possa teleguidare tramite un joypad tipo playstation. Le immagini catturate da rovo sono decisamente chiare. La struttura non presenta alcuna diramazione laterale. Decidiamo di procedere ugualmente con la carata dello spelio sub per ottenere un'ulteriore conferma de viso. In molti punti si sono verificati importanti distacchi di roccia che appaiono come fratture in antico. È possibile ipotizzare che questi crolli siano avvenuti in fase con la realizzazione della cavità durante lo scavo della stessa in una bonifica di consolidamento immediatamente successiva allo scavo. In ogni caso si tratta di una struttura solida e ben coesa e non sono visibili fratture preoccupanti in termini di staticità. Quindi continuiamo a scendere. La parte terminale della canna, così come quella sommersa, presenta uno scavo più grossolano e meno rifinito della canna in asciutto. Ma a parte ciò, non si incontra nessuna prosecuzione né alcun passaggio laterale. Purtroppo, anche per questa credenza è tempo di dissolversi. In questi casi però non proviamo mai troppa delusione perché ciò che importa sono le risposte, positive o negative che siano, ma chiare e definitive. Alla prossima avventura!